Buongiorno a tutti, bentrovati in questo nuovissimo video. Si parla di una grave perdita per quanto riguarda il mondo della tv, diamo così l'addio a Cindy Williams che se n'è andata proprio nelle scorse ore, gettando nello sconforto più assoluto in generale. Impossibile dimenticare le sue esperienze nelle vesti di attrice, quindi dove l'abbiamo vista maggiormente, soprattutto in una delle sitcom più seguite in assoluto. Quindi un altro pezzo importante del piccolo schermo è andato perduto. La donna aveva 75 anni e a sconfiggerla è stata una lunga malattia, che in poco tempo l'ha portata fino al decesso. Ma lei non potrà mai essere dimenticata dai suoi fan per quel famoso ruolo entrato di diritto nella storia. Un lutto devastante per la televisione, dato che Cindy Williams era amatissima da tutti. Purtroppo è morta, ma il suo talento resterà vivo per sempre. A confermare la tragica notizia sono stati i suoi due figli, che si chiamano Zack ed Emily Hudson. Hanno informato gli organi di informazione sulla dipartita della loro adorata mamma, che ovviamente ha creato un vuoto incolmabile nelle loro vite. Ma a commuovere è stato anche il messaggio di addio da parte di un suo collega molto famoso a livello internazionale. Nelle scorse ore questo lutto nella televisione ha fatto il giro del mondo in poche ore. Cindy Williams è morta, dopo aver combattuto in vano contro un grave male che l'ha strappata alla vita. Il suo decesso è avvenuto negli Stati Uniti d'America, precisamente nella città di Los Angeles, con i suoi parenti più stretti attorno al suo capezzale. Questo è il messaggio dei figli, conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell'umorismo e uno spirito brillante che tutti amavano. A morire è stata l'attrice della famosissima sitcom americana Laverne and Shirley. Lei impersonava Shirley insieme alla collega Penny Marshall, scomparsa invece il 17 dicembre del 2018. Era lo spin-off di Happy Days ed è andata in onda dal 1976 al 1983. La sua morte avrebbe avuto luogo il 25 gennaio scorso, ma solo ora i figli hanno avuto la forza di comunicare la notizia. Il suo esordio nel mondo della recitazione si era registrato nel lontano 1971, quando fu una delle voci dei personaggi della pellicola Gas, fu necessario distruggere il mondo per poterlo salvare. L'attore Henry Winkler ha salutato così Cindy Williams. Cindy è diventata mia amica da quando l'ho incontrata sul set di Happy Days. Era gentile e premurosa, il suo talento era illimitato. Non c'era un genere che non potesse fare suo, sono così felice di averla conosciuta. L'attrice era stata sposata con il collega Big Hudson dal 1982 al 2000.